buonasera a tutti sono olivia fagetti di sale pepe e sono qui alla food experience a milano con lo chef ilario vinci guerra ciao intanto volevo niente mi piacerebbe raccontarsi ai nostri lettori qual è la filosofia il tipo di cucina che fai nel tuo ristorante di gallarate ma è il tipo di cucina è mettere il prodotto la materia prima al centro di tutto poi dopo è un ristorante che usa molto la tecnica ma la tecnica non deve mai far passare in secondo luogo la qualità della della materia prima ecco la tecnica è a servizio del prodotto poi cerchiamo di fare una cucina che sia riconoscibile una cucina d'autore una cucina nostra e una cucina che si può mangiare ad occhi bendati che è diventato sempre più difficile dove tu riconosci gli elementi che ci sono nel piatto gli ingredienti i sapori quindi i sapori quindi devono essere decisi e distinti il i tuoi sapori preferiti sicuramente il pomodoro e l'olio extravergine di oliva che noi portiamo avanti questa battaglia da anni sia sull'olio che sul pomodoro italiano e sicuramente campano perché ilario se non l'aveste capito di dove sei napoli napoli città va bene grazie mille buona serata a tutti